ciao a tutti oggi prepareremo la salsa cocktail il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa ingredienti sono uovo olio di semi di girasole sale succo di limone ketchup panna cucina cognac e salsa wonchester andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla mettiamo nel boccale l'uovo il limone e il sale chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto e 40 secondi a velocità 4 nel frattempo sul coperchio versiamo l'olio la maionese è pronta trasferiamo in una ciotola capiente senza lavare il boccale mettere nel boccale il ketchup la panna da cucina il cognac e la salsa wonchester ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 versare nella ciotola con la maionese amalgamiamo delicatamente con la spatola riponiamola in frigo 30 minuti prima di utilizzarla salsa cocktail grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.